Ciao, 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 ciao raga, ciao, mi chiamo Giuseppe, sono Gigio, mi chiamo Maria Chiara, sono Morena, mi chiamo Anna, mi chiamo Domenico, mi chiamo Evelina, sono Rita Zilic, mi chiamo Stefania, mi chiamo Margherita, mi chiamo Rebecca, sono Stefano, sono Mar, mi chiamo Gino, mi chiamo Federico, sono Anna Maria, sono Andrea. Anche io sostengo Animal Equality, perché insieme riusciamo a dare voce e giustizia a milioni di animali nel mondo, perché con le loro inchieste e investigazioni raggiungono veramente milioni di persone ogni anno, grazie. Anche grazie ai loro servizi fanno vedere a milioni di persone la verità sugli allevamenti degli animali. Perché pensa agli animali da reddito, ai quali nessuno pensa. Perché non voglio che creature che soffrono come noi vengano messe al mondo e torturate per tutta la vita negli allevamenti intensivi. Perché grazie al loro grande lavoro ho aperto gli occhi a realtà crudeli e inaccettabili. Per il loro enorme contributo a proteggere i nostri fratellini animali, li sosterrei molto di più se potessi. Perché con il loro lavoro di sensibilizzazione aziendale stanno già portando fuori dalle gabbie 18 milioni di animali. Perché con le loro inchieste e investigazioni raggiungono milioni di persone ogni anno e lottono in prima linea contro gli allevamenti intensivi riuscendo a salvare milioni di animali. E lo faccio perché anche grazie alle investigazioni che svolge, maschera, abusi e atrocità nei confronti dei nostri invece animali, dando loro voce e possibilità di giustizia. Poiché si impegna a mantenere viva una grande e innegabile verità che disse Gandhi, la civiltà di un popolo si riconosce da come tratta gli animali. Perché credo in quello che fanno e meno male che ci sono loro. Perché con le loro richieste ci fanno capire la crudeltà e la sofferenza che si c'erano dietro i bacelli e gli allevamenti intensivi. Perché con le loro attività hanno salvato e salvano milioni di animali. Perché penso che là fuori ci sono un sacco di persone con un cuore d'oro che hanno diritto di essere informate. Anche io sostengo Animal Equality perché con le loro investigazioni stanno dando voce a chi voce non ce l'ha e stanno davvero costruendo un mondo diverso. Perché con il loro lavoro di sensibilizzazione aziendale stanno già portando 18 milioni di animali fuori dalle gabbie. Perché col suo lavoro di investigazione fa conoscere come vivono davvero gli animali negli allevamenti intensivi. Che terribile. Perché grazie al loro lavoro non posso più dire di non sapere e quindi le mie scelte sono più consapevoli. Grazie ad Animal Equality. Grazie ragazzi. Grazie per tutto quello che fate. Forza ragazzi, continuate così. Grazie a tutti.